Salve a tutti, oggi prepareremo la panna cotta, facile e veloce. Panna cotta, 500 ml di panna fresca. 100 ml di latte, 90 grammi di zucchero, 10 grammi di pollo di pesce o gelatina in foglio, 10 grammi. Gelatina in foglio, 1 grammi di zucchero, 4 cucchiaino di vaniglia, 1 cucchiaino di vaniglia o una bustina di vanillina. Adesso andiamo preparati, mettiamo in bagno acqua fredda, mettiamo in bagno adesso per 8-9 minuti. Adesso aggiungiamo il latte, poi aggiungiamo il zucchero, 1 cucchiaino di vanillina, 100 grammi di uccidio, 1 cucchiaino di panna, 1 cucchiaino di suorino e 2 cucchiai. Ho aggiungito un latte e panna, molte Mafia, 2 cucchiaino di tappa, e poi aggiungiamo la pasta, 2 cucchiaino di piatto e 2 cucchiaino di panna. e latte adesso bolle venga picchia e kai me vipin creme e uttara che ne ne vanno adesso facciamo tutto gelatine iniziamo il pino a piarva tutto da me gelatine sa manning si mi chianni normal vatture che sa manni vatture che la piada Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 sono pronti da me api panne kottetica piper ha kattopassi api fridgine di etara in di e nimi balan Ora vediamo il nostro corso e testo l'abbiamo ma da morganismo soft take the mobbi mi valla sanitarina soft take it up quindi appremmo i decoratori della mo have made on the caramel caramel sera picker want to cammati video the store very heavy chocolate honey on idea want to come TV the departure carano pull on the correct on ma piarante che legge chili e ghi cheri sghedi api me cheri spiritica garantire decreto le caratteristiche assaggio bell'amore do verissimo buonissimo ciao a tutti ci vediamo alla prossima